Anche Battipaia si allinea alla norma nazionale che vede gli enti locali nella situazione di dovre prevedere i fondi risorse decentrate. Si tratta di soldi che Palazzo di Città mette a disposizione per pagare eventuali straordinarie dipendenti nell'annualità in corso. La somma si attesta a 1.400.000 euro, di cui circa 950 per la parte fissa e il resto per quella variabile. La Giunta Comunale, guidata dal sindaco Cecilia Francese, ha determinato che la copertura sarà rintracciata nel bilancio previsionale, già approvato, 2023-2025. Le risorse sono destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività e sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali. Tale disposizione nasce alla luce delle cessazioni di attività lavorative di 11 unità nel 2022 e ciò ha permesso l'incremento dei fondi disponibili. Differenze di trattamento, infine, ci sono tra i vari livelli di dipendenti dell'ente pubblico, in base ad esempio all'anzianità o allo ruolo ricoperto.